Tassa sui rifiuti. L'indagine di cittadinanza attiva evidenzia come la campagna sia la regione con una spesa più alta per famiglia della penisola. Parliamo di 416 euro al nucleo, una somma alta perché si ricorderà la campagna non avendo impianti a sufficienza e costretta a smaltire oltre confine i rifiuti. È di 416 euro dunque la tassa per i rifiuti pagata in media nel 2023 da una famiglia più ai 320 della media nazionale con alcune differenze tra i capoluoghi. Si va dai 326 euro di Avellino, meno 5,1% rispetto al 2022, ai 491 euro di Napoli, più 8%. A livello nazionale la spesa più elevata si registra al sud con la campagna in testa, 416 euro come detto e un leggero aumento dello 0,5% rispetto all'anno precedente. Ben 7 capoluoghi di provincia meridionali nella top 10 dei più cari guidata da Catania dove una famiglia spende mediamente 594 euro all'anno. La regione in cui si rileva la spesa media più bassa sono le Marche, tra i capoluoghi di provincia e Udine, quello meno caro, con una spesa media a famiglia di 181 euro, tre volte in meno che a Catania. Nei 10 capoluoghi più costodi, 3 sono Campani, Napoli, Salerno e Benevento, anche se le ultime due nel computo complessivo sono in diminuzione. Sono 54 i capoluoghi in cui si registrano aumenti della tariffa, soltanto 20 quelli in diminuzione, l'incremento più elevato è a Latina. La riduzione più consistente è ad Imperia. E questo è il quadro che emerge dall'annuale rilevazione dell'osservatorio prezzi e tariffe di cittadinanza attiva in vista della settimana europea dei rifiuti in programma dal 18 al 25 novembre prossimo.